Buonasera e bentornati in questo nuovo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare il like e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati. Tra pochi giorni è previsto veramente un imminente alzamento delle temperature grazie alla rimonta dell'anticicolone nordafricano sul Mediterraneo la domenica 8 agosto. Questo determinerà un rapido aumento delle temperature sulla nostra penisola con picchi che potrebbero anche sfiorare anche più di 40 gradi. Questa andata di calore durerebbe all'incirca una settimana. Infatti il caldo comincerà più o meno tra domenica e lunedì in tutta la nostra penisola fino al weekend di ferragosto. Al nord Italia specialmente sulla pianura padana si toccherebbero facilmente 35 gradi in pianura ma già dalla giornata di domani 7 agosto picchi fino a 36 gradi nel ferrarese 35 a Bologna 34 su gran parte della Romagna. Molto caldo anche in Puglia con massime fino a 37-38 gradi nella zona di Foggia e nella zona interna della provincia di Bari. Caldo intenso e affuso anche in Sicilia con picchi anche fino a 37-38 gradi nelle zone più interne dell'isola. Picchi fino a 38-39 gradi in Sardegna e soprattutto a Sassari e Nuoro. Domenico 8 agosto ci sarà l'area calda sub-sahariana che prenderà completo possesso tutto il territorio italiano. Picchi oltre 40 gradi con punti anche di 42 al sud Italia, soprattutto in Puglia, Calabria e Basilicata. Le città più calde domenica saranno Mantova, Ferrara, Ancona, Bologna, Foggia, Bari, Matera, Cosenza, Crotone, Quadanzaro, Catania, Siracusa, Enna, Caltanisetta, Oristano, Sassari e Nuoro. Lunedì ancora, lunedì 9 ancora, temperatura di rialzo con punte anche di 45 gradi, soprattutto nella Sicilia interna. Al centro Italia massime comprese tra 30-35 gradi con punte anche di 37-38 tra l'Arsia, Abruzzo e Molise. Al nord si supererebbero i 30 gradi in pianura con molta facilità con punte anche di 35. E andrà avanti così per tutta la settimana con caldo che sarà oltre 40 gradi al sud Italia, 35 al centro nord. Ci sarebbe qualche possibile disturbo, soprattutto qualche temporale o rovescio sui settori centro orientali. Per ora è tutto e noi ci vediamo nel prossimo appuntamento meteo. Alla prossima!